Il settimanale chi pubblica, su un numero inedicola da domani le immagini esclusive di Cristiano Ronaldo in Corsica con la fidanzata Georgina Rodriguez giunta al quarto mese di gravidanza. Lo dimostrano in modo inequivocabile le immagini pubblicate dal settimanale diretto dal forzo Signorini, che rivela anche che la coppia aspetterebbe due gemelli. Ronaldo e Georgina sono legati da qualche mese e ultimamente c'è stato un gran vociare intorno all'ipotesi che la ragazza potesse renderlo di nuovo padre. La loro breve vacanza precede di qualche giorno alla finale di Champions League che sabato vedrà a contrapposti il Real Madrid di Ronaldo e la Juventus. Con la coppia c'era anche il primo genito del calciatore, il piccolo Cristiano Junior, che Ronaldo ha cresciuto da solo senza voler rivelare il nome della madre. Le prime voci di una sua nuova paternità si inseguivano da quando Ronaldo ha pubblicato su Instagram una foto con Georgina in cui entrambi accarezzavano il pancino della ragazza. La mamma del fuoriclasse aveva smentito le voci di un bimbo in arrivo, ma ora chi conferma tutto e lo documenta con un ampio servizio fotografico. Georgina ha preso il posto nel cuore di Ronaldo di Irina Shaikh. I due si sono lasciati nel 2015 e la top model russa è da poco diventata mamma di una bimba, avuta dall'attore Bradley Cooper. Chi se ne frega.